Gabriele tu ti torno più uguale visto che passiamo tutti fatiche Ah ma ho capito? Però è inutile che mi guardate bene Io non la trovo la magia No Perché loro corrono e voi state fermi È tutto lì ragazzi Sembra poco Raschi Raschi non so se se ne intende di calcio o no Lo sai cosa ho detto? No La più piatta ha detto Ma sono di più loro No La differenza Ah ma vabbè Se loro corrono Il 7 cosa avevo detto io? Il partito da raggiù è arrivato qua su Non ci siamo andati dietro nessuno No Un'azione Si ci mette in difficoltà Ci mette in difficoltà Allora 5-7-8 E gioca di mezzo Allora io vi dico una cosa Secondo me Giochiamo tra i 5-2 Da come lo vedo io? Un po' più stelle Chiamo tra i mezzo Due laggi Io vi dico così Per me È inutile se gli altri corrono molto Stare a 10 metri Perché poi dopo Se no ti salta E' la calzata più grossa che vai a fare Stare a 10 metri E' la calzata più grossa che vai a fare Allora se invece tu gli stai attaccato Lui corre molto Non lo fai partire Oppure lo disturbi dalla partenza Lui non lo vedi che corre molto Ma se tu gli dai 5 metri Tu lo ti tori tutte le volte Cioè faccio per dirti Se Ernest lo manchi a uomo Non ti tori mai Perché tecnicamente non lo fa Se Ernest lo manchi a 5 metri Ti tori tutte le volte Il discorso Non lo so Non lo so Allora ragazzi Io vi dico Lontano Allora ragazzi eh ragazzi ho tutto lì eh allora giochiamo subito e noi andiamo perci tre ascolta ascolta